Quando il Signore, parlando col profeta Ezechiele, gli disse di essere la sentinella del popolo di Israele, uso una parola forte e impegnativa. Se c'è qualcosa che specialmente noi siciliani non amiamo fare è quello di fare le sentinelle degli altri. L'ideale del siciliano è farsi i fatti propri. Io lo ripeto spesso nelle parrocchie dove sono stato in questi anni, che quando sono venuto a Villa Abate mi andavo a benedire i morti, allora si usava chiamare il prete prima, a volte, quasi sempre, dopo che una persona volava al cielo. Quando arrivavo mi dicevano sempre, padre Giacomo, un uomo eccezionale, padre Giacomo, una donna eccezionale, si faceva sempre i fatti propri. L'ideale del siciliano. Questo però non è Vangelo. Questo è nella logica di Caino. Vi ricordate quando Caino uccise Abele? Il primo atto di violenza, diciamo il primo atto di gelosia, il primo atto di mafia. Quando Dio gli chiese Caino, 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 dov'è tuo fratello? Cosa rispose Caino? E chi ne so io? Sono forse io il custode di mio fratello? E se tu non sei il custode di tuo fratello, perché facevi il paragone fra i sacrifici che faceva tuo fratello e il Signore gradiva e i sacrifici che facevi tu e il Signore non gradiva. Non avresti fatto meglio. Aspettiamo che prima finisce il concerto. I telefonini bisogna chiuderli prima di venire a messa. Sì, bravo. Natale fa presente che il suo telefonino lo mette silenzioso. Continuiamo il discorso che è troppo serio. L'altro non è qualcuno con cui tu ti paragoni. Ho insegnato ora ora a Lidia che mi preparerà un articolo per il numero di ottobre su CNTN che ora sta trattando ogni mese uno dei vizi capitali. Enzo Bianchi che ha scritto sette libretti stupendi sui vizi capitali ne ha scritto uno intitolato Tristezza di per sé dovrebbe essere l'invidia invece lui lo titola Tristezza e all'interno della Tristezza c'è anche l'invidia c'è anche l'invidia tutti marci a Dio il problema di Caino è che non glielo offriva con tutto il cuore faceva i sacrifici perché i suoi genitori gli dicevano che era giusto fare i sacrifici ma lo considerava lo considerava una perdita di tempo e un atto assolutamente esteriore e formale noi uomini ne accogliamo tanti di gesti e di momenti non autentici e formali Dio no Dio accetta solo quello che noi facciamo con tutto il cuore e quindi la la vampata di invidia nei confronti del fratello che non solo lo uccide ma quando Dio gli chiede contro e ragione risponde sono forse io il custode di mio fratello ipucita che non sei altro hai chiamato tuo fratello in un'imboscata lo hai invitato ad andare in aperta campagna lo hai assassinato lo hai disteso morto per terra te ne sei fuggito e quando Dio ti chiede dov'è tuo fratello anziché dire l'ho ucciso tanto lo sapevi perché Dio lo sapeva rispondi ipocritamente chi sono io sono forse il guardiano di mio fratello e per questo che ciascuno di noi siamo incaricati di essere guardiani ognuno dell'altro guardiani come come genitori guardiani marito e moglie guardiani come figli guardiani come lavoratori e datori di lavoro come insegnanti e all'unni delle scuole come parrocchiani e parroco noi non siamo solo responsabili di quello che facciamo e magari ci sentissimo responsabili di quello che facciamo perché spesso capita come Caino che troviamo sempre mille giustificazioni per sdebitare la nostra coscienza e difenderci magari senza bisogno che qualcuno ci chieda difesa e però dobbiamo metterci in testa che il mondo si salverà attenzione non quando i politici si metteranno d'accordo perché i politici non si metteranno mai d'accordo il mondo si salverà quando diventiamo tutti sentinelle l'uno dell'altro sentinelle nei cibi e nelle bevande certo se è un fumatore incaldito tu lo correggi non si correggerà se una persona che beve troppo anche se gli fa male la salute non si vuole correggere non si correggerà o chi mangia troppo o chi gioca troppo ma tu glielo devi dire ma tu lo devi correggere ma tu ci devi stare addosso ma tu ti devi sentire responsabile della sua vita della sua salute del suo tempo della sua coscienza e delle sue azioni siamo sentinelle gli uni degli altri per il sonno se dormiamo troppo e facciamo male se dormiamo troppo poco e facciamo pure male siamo siamo sentinelle degli altri per il lavoro se lavoriamo troppo e facciamo male è qualcuno che ci correga ci deve pur essere ricordo un uomo molti anni fa una famiglia una persona buona tutto sommato però lavorava 12 ore al giorno tornava stanco dal lavoro mangiava si metteva nella sedia al draio dormiva un'ora si andava a coricare domani l'indomani mattina alle 5 era sempre pronto sua moglie lo giustificava ma sua moglie avrebbe dovuto essere sentinella perché non è vita normale questa così anche per lo studio a volte si studia troppo un giorno dovevo incontrarmi con una persona che diceva che aveva desiderio di incontrarmi dico venga a me se ci vediamo no non era possibile perché tutta la domenica doveva lavorare dalle 7 del mattino alle 7 di sera nessuno lo correggeva perché tutti riteniamo che quello che gli altri fanno sia giusto e tutti ci teniamo cari le persone che abbiamo accanto o care per non dispiacerli quando quando ero giovane prete ho subito uno shock ho parlato con una signora che mi veniva di passaggio suo figlio veniva ogni domenica a messa una domenica non lo vengo signora suo figlio non è venuto a messa è andato in campagna un bambino di 10 anni forse anche 9 è andato in campagna a raccogliere le olive con suo padre dico la domenica certo ma come mai sabato che c'è la scuola non c'è andato già la scuola doveva perdere non è peccato allora io ho risposto la messa doveva perdere i vieni non è peccato nella mentalità della signora prima veniva la scuola poi la raccolta delle olive poi se c'era tempo se c'era tempo il signore io ho dovuto dire signora lei è in errore che ha messo il signore al terzo posto nella sua vita no un signore prima può essere non è vero quella signora da quel giorno mi sorrideva sempre da quel giorno in poi a malapena salutava col broncio per giunta correggere fare le sentinelle non è facile se tu vuoi essere amico di tutti devi vivere l'ideale del villabatese degli anni 60 70 fatti i fatti propri eppure la bibbia dice qualcosa di diverso devi essere la sentinella di tutto quello che si facesse ascoltare qualcuno signore spento silenzio natale non disturbare pure tu quindi in questo questo clima in questo tipo di mentalità noi non faremo mai rete se se ci fa male un dito non è che la nostra testa dice che mi interessa del dito tanto la testa non mi fa male il dito fa parte della testa quando facevo la scuola media un ragazzo disse ieri non ho un compagno mio di scuola ieri non ho potuto studiare perché mi facevano male i denti il compagno mio di banco mi disse ma perché tu con i denti studi giustamente ti dà una piota e ci fa e ci fa volessi vedere la tia se avessi avuto un olore di rilienti capito io ho semplotuto la ferrava storia il paragone che sto portando è importante perché se noi non ci abituiamo a essere sentinelle gli uni degli altri e se noi evitiamo di fare della nostra vita come ideale di farci i fatti nostri il mondo non si correggerà mai questo se vale a livello privato poco fa dicevo sonno lavoro ma anche tempo libero le amicizie i social i viaggi il movimento del denaro tutto deve essere vigilato dalle persone che ci vogliono bene amarsi non significa stare accanto gli uni gli altri e godere della presenza della persona amata amarsi significa correggere la persona amata la quale se non vuole essere corretta vuol dire che ne ama ne vuole essere amata mettiamocelo ben in testa chi dice io sono così non ci posso fare niente e così sarò e non voglio che tu mi dica niente ti devi fare i fatti propri una persona che ragiona così non ha amore per nessuno e non è capace di ricevere accogliere amore da nessuno è un sasso e i sassi sappiamo non producono né fragole né cipolle né peperoni né fagioli i sassi producono soltanto capacità di essere lanciati per fare del male a livello internazionale e concludiamo dovrebbe essere pure così quando quando finì la prima guerra mondiale il presidente Wilson uno dei presidenti per la storia più grande per me più ipociti che mai siano mai esistiti inventò la società delle nazioni che doveva servire a sedare tutti i conflitti che potevano sorgere a livello internazionale vuol dire niente in dieci anni il mondo è cambiato radicalmente e voi sapete se Hitler o Mussolini furono ossepienti al presidente della società delle nazioni finì la seconda guerra mondiale essorse l'ONU società che dovrebbe mettere pace in mezzo al mondo forse molte cose non le sappiamo perché la televisione ci dice il minimo di quello che succede ma se voi per una volta al mese magari sfogliaste una rivista missionaria e vedeste cosa succede nelle varie parti del mondo vi direste ma l'ONU dov'è? chi dovrebbe sorvegliare chi sorveglia non c'è la capacità di essere sentinelle gli uni degli altri le sentinelle esistono ma per vedere quanto tu puoi sfruttare l'altro l'altra nazione e le risorse che ha per la tua nazione o per la tua multinazionale pensiamo al profeta Ezechiele sii tu sentinella perché il male che l'altro fa e tu non lo avvisi è responsabilità tua ma se tu lo avvisi tu ti sei tolto di responsabilità il male resta nella persona nel nostro caso nelle nazioni che commettono il male e fanno il male che la Vergine Santa ci illumina e lo Spirito Santo per intercessione della Vergine Santa voglia velviare sul nostro cuore perché ci decidiamo tutti e sempre e con tutti a essere sentinelle perché molte cose si potrebbero evitare se siamo sentinelle negli uni degli altri credo in un solo Dio vado unipotente creatore del cielo e della terra di tutte le cose visibili e invisibili provincias svongi